Con il Presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algeri, un importante contributo a quello che è un torneo, quello della città del Codex e del Castello, giunto alla seconda edizione che coinvolgerà squadre di grande spessore. Sì, sono con soddisfazione che voi oggi siete qui, ma il nostro è un bando delle realtà sul turismo, quindi poter ospitare anche la parte sportiva, che oltre 100 atleti sono nel nostro territorio, quella è la maggiore nostra soddisfazione. Non solo dalla parte sportiva che ha la vostra competenza, ma dalla parte nostra significa promuovere il proprio territorio, quindi l'abbinamento sportivo e promuovere il territorio, questi atleti, 800 persone, professionisti che vengono nel nostro territorio, per noi è la più grande soddisfazione. Quindi noi proseguiamo questo in realtà bando congressuale, che ogni anno lo ripetiamo e con soddisfazione già la seconda edizione, la seconda edizione che noi partecipanti al bando in realtà finanziamo il torneo, ma per noi è promozione del territorio.